Io sono ansioso di sentire cosa dirà domani pomeriggio il Premier Renzi. Fino adesso agli italiani ha raccontato solo balle. Adesso vedremo cosa racconterà gli europei, oltre agli italiani, qui al Parlamento europeo. Avremo bisogno di cose concrete, avremo bisogno di aiuti veri alla piccola e media impresa, avremo bisogno di qualcuno che ci liberasse dal laccio che hanno messo al collo di privati e di aziende, le banche strafinanziate da questa Europa che Renzi e la sua coalizione difende con le unghie e con i denti. Avremo bisogno di qualcuno che ci difendesse da questa invasione di clandestini mascherati da profughi. Avremo bisogno di un cambiamento vero, ma questo si avrà solo con la Lega e con il gruppo che si appresta a formare con i nostri amici ed alleati molto forti, perché in Francia si sono svegliati prima che da noi e hanno mandato 24 deputati del fronte nazionale. Noi siamo con loro, orgogliosi di essere insieme a loro.